Oddio, cosa sta succedendo? Che cosa hai? Bene che sei il mio bravo e oggi siamo qui su Make Me a Sandwich Siamo in una casa? Non c'è nemmeno una porta Ah, una tv, ok, almeno quello Mi posso guardare all'occhitti, perfetto Non capisco perché il soffitto è nero Vabbè, vabbè, dettagli Comunque siamo qui chiusi a vita Questo è la nostra condanna vita a fare sandwich La cosa mi piace Oddio Sta tremando C'è il pomodoro che ha paura, non so come Allora, come si fa un sandwich? Allora, prende... Tra l'altro, cioè, non hanno gravità ste cose E perché svolazza la roba? Ok, ok, mettilo qui Dentro Lascia cadi Oh, qui No, no, no Dove, dove c... Eh, ma come faccio a prenderlo? Ah, così No, è caduto Ma por... Mamma mia, che proche sono Allora, prendi il sandwich Eh, vabbè Come faccio a riprenderlo? Non me lo fa appoggiare nel tavolo Ma posso spostare il tavolo? No, non posso Il divano? Eh, non credo proprio Va bene, prendo un altro Ah, ma non è che questo? No, ma che non è questo? Oddio, no Non ne volevo così tardi No Il... No, non cadere No, 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 no Non cadere Mi servi È un pene questo Cosa... Ma resta qui Eccolo Guardate... Cioè, va tranquillo proprio Va bene Cioè, è attratto dal muro Che cavolo di problemi ha questa salsiccia? Non dirmi che trapassa il muro Ah, ok Vieni qua Che ti ho detto di andare... Ecco, resta nel divano Oh Oddio È entrato dentro il divano No, e poi come faccio a prendere... E poi... Cioè, sembra facile Ma non lo è Ve lo giuro Perché non sembra abbiano gravità ste cose Ed è difficilissimo muover Muovere sta roba Togliti tu No Di... Oh Resta qui Oh, ce l'ho fatta mettere un fottuto panino Ma mi vola per terra E mo prendiamo i pancake Che tremano E cosa sta succedendo? No, no No, ti prego non cadere Oh mio Dio se cadeva Tra l'altro nel pavimento c'è una salsiccia Un... Un pane Oh, ce l'ho fatta Guardate quanto è bello Non credo esista un sandwich al pancake Però va bene, io posso Perché non sale? Sali No Ti prego no No, devo riprendere Oddio ce l'ho fatta Vieni anche tu Oddio Scusate ma dove... Cosa sta succedendo lì sotto? Sta tremando tutto Ma che... Che cavolo sta succedendo? Madonna Quanto fa incavolare Che... Che trema tutto Cade tutto Perché non sta lì? Oh Resta lì Le uova non mi servono per ora Anzi sì che mi servono Perché non cadere Questo non mi serve Vaffanculo va Allora Come fare un sandwich buono Dovete prendere il panino Metterlo sulla tavola Oh Così Prendere il formaggio Farlo svolazzare per aria Oddio L'ho ripreso al volo Perché è nero? Oddio perché è nero? Ok Dettagli Dettagli Oh Ce l'ho fatta Metterlo Un po' più in qua Non si muove più Ok No Sì Oh Ce l'ho fatta Oddio santo Quanto è difficile Non sotto al panino Va sopra il panino Il formaggio Oddio Non sotto Perché vai sotto? No Oh io ci rinuncio Metto 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 Il pomodoro Voi scaricate questo gioco Anzi vi metto il link In descrizione E pro No Mi è caduto Oddio Cosa sta succedendo Che cos'hai? Regà Non sto facendo Ok Ok si è fermato No Ma sei un fottuto pomodoro Guardate quanto va lento Cioè io lo lancio alla massima velocità e lui cade come non lo so Guardate guardate Che cavolo What the fuck Tra l'altro si è appoggiato proprio preciso Va bene Togli il piatto Togli questa fetta Me ne servono due Ok ce ne ho due Ok L'uovo Mi serve Non lo so Però È volato il piatto Se non ho visto male Ok vabbè Chi se ne frega Butta tutto Non mi serve Voglio fare un panino come si deve Non è possibile che io non sappia fare un panino Un fottuto sandwich I waffle non mi servono un cavolo Quindi giù per terra Che palle Quando mi cade la roba Caso Regà giuro che mi sto incavolando Cioè è difficile Perché trema quell'uovo? Qui è tutto posseduto E non so che cavolo ha questo cibo Oddio guardate perfetto Vabbè Lasciate stare che c'è tutta quella roba sotto E si dovrebbe mettere sopra in teoria Ma dettagli dettagli Ok ce l'ho fatto Oddio Ce la sto facendo Mettilo No Non spostare il formaggio Che deve restare lì Guardate che panino che stiamo facendo E regà Non è facile ve lo dico Ok manca solo l'uovo Ce la posso fare Oh no Dove è sparito l'uovo? Dove è sparito l'uovo? Mi serve l'uovo Dove cavolo? Ah eccoti Ti nascondevi Famone vieni Oh ce l'ho fatta Guardate guardate quanto è bello questo panino Oddio perfetto Ha fatto Ha fatto tipo una ruota Che cavolo ha fatto L'ultima La salsiccia No 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 Oddio No sta per cadere tutto Sta per cadere tutto No Perché è rimasto in piedi Resta Oh Oddio ce l'ho fatta L'ultimo Chi se ne frega Della salsiccia Regà come cavolo faccio a metterlo Oddio No ci stavo per riuscire No No Io ci rinuncio È difficilissimo Comunque ragazzi Per questo episodio è tutto Se vi è piaciuto Lasciate un mi piace Commentate Iscrivetevi Noi ci vediamo al prossimo giorno Con un prossimo video Bye ragazzi Bye ragazzi Il mio Marraff E oggi siamo qui su Clash Royale Ciao 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 Grazie a tutti.